Allora, dobbiamo andare? Ci chiamano. Quindi Radio Forze Armate Alleate. Interrompiamo il programma per diramare un bollettino importante. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un improvviso aumento dell'attività vulcanica. Si proclama lo stato d'emergenza. Tutti gli ufficiali comandanti si mettano immediatamente al rapporto. Stasera, quando ho visto questa gente, avrei una confessione da fare. Non è facile. Non è mai facile. Ma non abbia paura. Qui siamo in Italia. L'Italia è il paese dove è nata la confessione. Sono stata disonesta, capitano. Disonesta. Non sono venuta qui per portare aiuti alla popolazione civile. No, signore. Sono qui per aiutare il senatore White. Per l'elezione del presidente degli Stati Uniti. Per il corpo d'aviazione femminile. No, e anche questo è vero. Io sono venuta per me. Per me stessa e per nessun altro. Che cosa volevo? Non lo so. Per delle foto sui giornali, forse. La prima americana a Roma. Basta adesso. Malaparte mi porti a Capri. Lei sta ridendo di me. Non ci posso credere. Lei sta ridendo di me. No, no. Sto ridendo di me stesso. Mi sembra impossibile. La rovina, la fame, la violenza, tutte queste cose, per una foto sui giornali. ignorante, figlio di puttana. Io odio il tuo modo di essere. La tua sporca razza latina. Tutti presuntuosi, saccenti. Tutti quanti. Magnaccia, selvaggi, unti. Con quei capelli neri e pieni di brillantina. Da gigolo. Guappo. Guappo. Ti prendi gioco di me. Beh, stami a sentire. Quella tua bandiera che hai fra le gambe, te la puoi anche infilare là dove sai. Grazie.